Mamma mia ragazzi che giornata, che giornata, ma di cosa stiamo parlando? Non ho più la voce tra i gol, tra le risultanze per i gol al fantacalcio I gol del Napoli, il gol del Crotone, io davvero non ce la faccio più Mi hanno segnato un po' tutti al fantacalcio ringraziando il signore Domani penso risultati o dopodomani, penso più dopodomani Siamo al quarantasettesimo, 46.50 di Napoli Udinese La Juve è finita, ha pareggiato e chi non ci credeva se ne potesse pure star zitto Ho abbassato la voce, ci guardiamo quest'ultimo minuto più o meno Perché sì, tre minuti, siamo al quarantasettesimo più o meno di partita Ragazzi in Napoli che con Milik e Zieninski è davvero stato quello di inizio stagione Si è vista la freschezza di due polacchi, si è vista la freschezza di Amadou Di Aparà Si è visto il talento di Lorenzo Tonelli perché oltre al gol partita importantissima per il difensore italiano Davvero ha fatto una prestazione da sette in pagella Devo dire la verità sei in mezzo sette, comunque una prestazione molto molto buona Penso la migliora in stagione oltre al gol Niente, che c'è da dire? Migliori in campo un po' tutti Quello più sotto tono è Dries Mertens Che entra ringraziando il signore non si fa ammonire A meno che non si faccia ammonire ora È entrato e non ha inciso particolarmente sulla partita Milik come sempre ottimo, ottimo giocatore, ottima partita Corona anche la prestazione anche lui con un gol Gol di Albiol che trova il secondo gol stagionale Ed è finita ragazzi Siamo di nuovo lì Io non ci posso chiedere Meno 4 Abbiamo lo scontro diretto domenica Io ci credo Io ci credo perché io sarò contento Non devi mollare Io e tutti i difusi napoletani abbiamo un sogno nel cuore Napoli devi tornare campione Non lo so Non ho mai esultato così tanto in vita mia Perché dal gol in rovesciera di Simi Al gol di Tonelli Davvero fortuna, destino sarà Però mi viene da piangere Perché è bello Perché abbiamo risanato un sogno Abbiamo ricostruito quel sogno E adesso voglio vedere tutti quanti Che la settimana scorsa hanno scesi dalla barca Adesso invece voglio vedere come salgono di nuovo Io sulla barca non me ne vado Ma come i tantissimi altri tifosi che conosco Non andranno mai via da questa barca Napoli Che si mico che si perda Forza Napoli è giù per merda Niente Non ho parole Non ho parole vi ho detto Il Napoli ha giocato bene Ha fatto pochi errori Che sono costati appunto Ai due gol Uno di Youngton Uno di Ingleson Gol di Ingleson Che non ho visto Perché non è andato in bagno Guarda caso Signia Ingleson Però poi altri gol davvero molto belli Insigne fa un bel gol Milik molto fortunato E poi due bei colpi di testa Quello di Tonelli Bellissima Anche quello di Albiolo ci sta Una traiettoria che Non permette la parata del portiere E comunque ottimo Ottimo Napoli Davvero Devo ringraziare questi Questi ragazzi Perché mi stanno davvero Facendo sognare Cose che non ho mai provato Nella mia vita Diciamo Perché comunque sono nato 13 anni fa No Ho 15 anni 13 Sono nato 15 anni fa Vabbè E quindi non ho vissuto Il Napoli di Maradona Però potrei dire Spero Fra qualche anno Di aver vissuto Il Napoli di Marek Kamsik Il Napoli di Maurizio Sarri E il Napoli dei tre tenori Insigne Mertens e Kalleon Il Napoli di Arkadius Milik Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti